Allora, c'è una grande confusione qua, perché qui non è in discussione... Tu l'hai difeso. Allora, certamente. Non è qui in discussione il diritto delle donne di parlare di calcio. Non è questa la discussione. È in discussione, intanto c'è, voglio dire, lei, Caterina, che lo difende, in quanto moglie lo difende, non ha bisogno di altre difese. Qui è in discussione un'altra cosa. Probabilmente gli ex calciatori parlanti spesso sono noiosi, non sono un granché. Fulvio Collovati si è avventurato in un territorio un po' scabroso, ha fatto la pipì contro l'albero sbagliato, è andato a cozzare contro i moralisti, i politicamente corretti, ha subito un provvedimento per me clamorosamente ingiusto. Due settimane di sospensione. Se lui doveva chiedere scusa su qualcosa, non su quello che ha detto, ma su come l'ha detto, perché qual è il punto? Le donne hanno diritto di parlare di calcio. Lui fa capire un concetto che le donne non possono perché non sanno parlare di calcio.